È stato un episodio brutto perché comunque ancora stavo insultando e riprendere il gol così è stata davvero una beffa perché fino a quel momento avevamo preso un tiro in porta e quindi io personalmente sono molto deluso perché comunque avevamo preso pochissimi gol e prendere un gol così mi fa veramente arrabbiare. I miei compagni mi aiutano, comunque mi danno una grossa mano anche a non sbagliare, quindi mi sto trovando bene, a mio agio, non sto avendo nessun tipo di problema. Credo di essere maturato tanto anche con l'aiuto del mister quest'anno perché abbiamo cambiato un po' modulo dall'anno scorso, siamo più un 4-4-2 e quindi mi sto trovando molto bene. Se andiamo a vedere partite inizio anno e andiamo a vedere partite di ora credo che ognuno di noi sappia fare meglio il proprio ruolo quindi dobbiamo ringraziare solo lo staff per questo perché comunque ci aiuta a crescere per un futuro migliore per tutta la squadra. Il mister è molto comunque fissato sulle palle inattive, infatti cambiamo sempre, ne cambiamo tantissime, abbiamo circa 30-40, non lo so, a parte dipende se loro come si mettono a zona uomo cambiamo di schema in schema. Fino a giugno penso a giocare nel terreno perché ci sono ancora altre partite da giocare e noi dobbiamo comunque raggiungere l'ottavo posto per arrivare in Team Cup l'anno prossimo. Per noi è un obiettivo importante perché quest'anno abbiamo creato una bellissima figura in Team Cup e quindi vogliamo ripeterci l'anno prossimo. Poi andrò in vacanza con calma e poi si vedrà nel futuro. Ancora non parlo con nessuno, non parlo con la società ma io mi sento bene a Teramo e quindi voglio finire la stagione qui e poi si vedrà.